Movida Locka Television, dove i più grandi eventi contano. Noi ci siamo. Movida Locka Television questa sera fa tappa al Castello Santa Caterina. Siamo a Polenatrocchia in provincia di Napoli perché festeggiamo i primi 18 anni di Siria. Ovviamente dove i più grandi eventi contano. Noi ci siamo. Partiamo dal Castello Santa Caterina. Buon compleanno. Siria. Grazie a tutti. La nostra Siria che questa sera al Castello Santa Caterina ha scelto di trascorrere in compagnia di amici e parenti questa grande serata. E allora con le mani la cogliamo sul nostro red carpet. Vieni. E come una vera star, si ferma lì il papà, la mamma, il fratello a cui noi facciamo un grande applauso. Movida Locka Television. Dove i più grandi eventi contano. Noi ci siamo. Tantissimi auguri, Siria. Tantissimi auguri e spero che riuscirai a... A realizzare tutti i tuoi sogni. Mi fai un auguri a Siria? A Liguri. Buon compleanno, Siria. Buon 18. Ciao Siria, augurissimi. Tanti auguri. Tanti auguri a te. Giorno speciale. Oh, ceci! Sembra un vero simile, no? Dal fratello e dal cugino. Dal cugino. La cina è fuori! No, che dici. Ci divertiamo stasera. Ci divertiamo, ci divertiamo. Ciao Siria. Tanti auguri. Da me. E Francesca. E ti auguriamo di passare un bellissimo diciottesimo. E tanta felicità. Tanti auguri, Siria. Auguri, Siria. Auguri, Siria. Auguri, Siria. Auguri, Siria. Che possa realizzare tutti i suoi sogni. Tantissimi auguri. Ti auguro una vita serena, piena di felicità. Un augurio veramente specialissimo alla mia bellissima nipote che questa sera... Va bene. ...compie gli anni e diventa maggiorenne. No, non lo segno proprio. Tanti auguri, Siria. Ti voglio un mondo di bene e spero che la nostra amicizia non finisca mai. Ma di che c'è il piacere? Ciao, Siria. Augurissimi. Mi raccomando, sempre alla grande. Uomo dei conigli, che hai detto? Mi raccomando, sempre alla grande. Siria, ciao. Tantissimi auguri di buon compleanno. Ti auguriamo un fantastico percorso. Assassin. Di vita. E tantissimi auguri. Auguri, Siria. Ciao, Siria. E niente, ti vogliamo augurare felicissimo compleanno questa sera. Tanti auguri per... Una buona vita. Tantissimi auguri, Siria. Mi raccomando, fa tante cose belle e che la vita possa darti il meglio. Un bacio. Auguri. Siria, tanti auguri di buon compleanno. Sei bellissima con questo vestito. Un bacio. Siria, tanti, tanti auguri. Tanti auguri. Di un felice diciottesimo compleanno. Che dirti? Che la vita ti auguri il meglio. Chi hai detto? Che la vita ti auguri il meglio. Aguri. Ancora auguri. Aguri, Siria. Ciao, Siria. Sono Andrea Sandino. Ti mando un abbraccio fortissimo perché so che oggi è il tuo compleanno. Compe i diciotto anni. Ed è un compleanno importantissimo. Forse uno dei più importanti della vita. e io ti auguro di sognare sempre, sempre e continuamente in ogni anno della tua vita. Un abbraccio fortissimo, anzi, un abbraccio più forte e a presto. Ciao, Siria. Movida Locatelli Vision. Dove i più grandi eventi contano. Noi ci siamo. 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 Così canali, мной ce i miei. Non ci siamo. Non ci sono. Noi ci siamo. Indiciamo ci siamo. Noi ci siamo. Col bourboni. fu applicants. Nobca. Nobca. Nobca io. Accur辛ue Tacka. Grazie a tutti. 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 Allora, vogliamo tirare un po' le somme, vogliamo fare il bilancio di quella che è stata l'intera serata qui partendo magari dalla location, dagli invitati, se c'è stato qualche colpo di scena, qualche cosa che veramente tu desideravi ed è arrivato come d'incanto. Direi che la festa è andata molto meglio di quanto mi aspettavo grazie soprattutto all'animazione e alla location e soprattutto una sorpresa inaspettata, eccola qui. Come si chiama lui? Grazie a tutti. Io voglio ringraziare Gianni Orefici al di là della camera, Floriana stile ufficio stampa, ma soprattutto voi che avete scelto di stare con noi. Ringrazio Top Audio Service che ha curato gli allestimenti e come diciamo sempre, vai sempre!